Ciao galpini, benvenuti in questo nuovo video! Oggi realizzeremo un origami particolarissimo guardate quanto è bello questo cigno è un origami 3D costruito realizzando tutti i moduli separati e poi assembrandoli insieme basterà avere della carta nera, della carta bianca e un pezzettino di carta rossa o arancione andiamo a vedere come fare Grazie a tutti! 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 è carino allora cosa ne pensate? ci vorrà del tempo per realizzare tutti i moduli che serviranno per fare questo bellissimo cigno ma sono sicura che molti di voi riusciranno a farlo ancora più bello del mio se il video vi è piaciuto pollice in su e commentate e mi raccomando iscrivetevi al canale ciao 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 ciao